Grazie a tutti Naturalmente è una serata dedicata allo sport, agli atleti, a tutti quanti, ma il nostro pensiero in questo momento va a quelle persone che non stanno bene, come siamo messi noi in questo momento, che sono quelli colpiti dal terremoto e dall'evento che è quello della neve. Facciamo un applauso a loro, grazie. Grazie a tutti A cui passo subito il microfono, grazie Grazie a tutti E' un'occasione per noi, che partiamo sport minori, avere questa visibilità vicino a grandi campioni che vediamo tutti i giorni in televisione, in radio, in televisione private, quindi quelli del calcio. Grazie a loro, sarà una bellissima occasione per incontrare anche gli amici, vedo tanti, del ciclismo, della danza, lo skate e tutti gli altri sport minori. Un concetto Grazie a tutti Buonasera 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 a tutti il Giacogliosi, questi sì hanno davvero rappresentato l'Italia, questi sì sono la vera Italia e non già quei parlamentari europei che fanno soltanto delle semplici e banali chiacchiere oltre che delle truffe ai danni di interi popoli. Detto ciò naturalmente ringraziamo anche la stampa, ci sono qui le migliori penne, penne che io chiamo dalle 4F, fluide, feconde, felici e fruttiferi. Detto ciò naturalmente anche al ristorante che ci ospita mirabilmente, le persone, gli amici come diceva l'amico Lino Bocanzi, Francesco Mirca e Sabella e naturalmente anche un ricordo particolare che vogliamo dedicare a una persona che è stata moglie del Presidente del Mociano Calcio e madre del Presidente Porto d'Ascoli e sto parlando della signora Olimpia Specca in amante. Chiedo un grande successo applauso. Grazie a tutti e buon proseguimento con l'agulio che al vostro ritorno possiate dire di aver trascorso una bella serata. Di nuovo Valerio, grazie e complimenti anche a te. Grazie io per iniziare in realtà. Andiamo in professore così c'è la consegna del premio alla memoria della signora amante. Da sempre molto vicina anche a questo premio, la famiglia amante in generale, vi ho fatto già un applauso in memoria della mamma, direi che è sempre un'emozione anche per voi. Beh, è chiaro che adesso questo memoria è per una persona sicuramente molto buona, come tutte le mamme del mondo, che accompagnano i figli o i mariti, che comunque si dedicano a questo sport, piuttosto che è al di sport. È chiaro che noi ben volentieri siamo qui che era per solidare il nostro mondo, perché comunque fa solo che piacere quando si nomina una persona piccata. È chiaro che io ringrazio il professor Cengiarelli che ci ha dato la possibilità anche di sensibilizzare questa cosa, il mondo dello sport. E noi ne facciamo parte ormai da tantissimi anni, perché il nostro contributo in questo settore, io sono stato presidente per 15 anni, mi porto da mio padre per qualche anno ancora prima, il fratello anche nella zanese, tese, quindi abbiamo dato, penso tantissimo a questo sport. E abbiamo adesso lasciato lo spazio anche l'altro, perché è giusto che sia così. Quindi io ringrazio veramente tutti i professori e tutti quelli che comunque ci hanno dato questa possibilità di prendere questo premio. Grazie a tutti. Grazie, grazie mille. Grazie a tutti. 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 Ciao. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.